Tags Clubhouse domani, giovedì 21 settembre, alle ore 11.30, nella Clubhouse societaria, il presidente della Dynamo Banco di Sardegna Stefano Sardara e Dei e Sport presenteranno le nuove divise per il campionato LB a 2017-2018. A seguire saranno presentati i due bianco-blu che hanno raggiunto il gruppo nei giorni scorsi, di Chavimpiere e d'Arco Planinic. Tutti gli operatori dell'informazione sono cordialmente invitati a partecipare.